questa esperienza una settimana intensa una settimana che una settimana di da tanto perché sanno dove cosa dirti che arriva proprio quello che ti devo arrivare se stai attento prendi tanto felice gioia quello vabbè sempre se si vedeva e si sapeva e vi da tanto sì perché arriva proprio dove deve arrivare da proprio quello che vedevi dare la sicurezza grazie